ciao oggi voglio parlarti dell'impingement di spalla e soprattutto il suo trattamento mediante appunto ultrasuoni prodotti dalla fisio computer il modello usf1 è il modello di punta per la fisio computer per quanto riguarda gli ultrasuoni a freddo che riesce quindi ad unire l'azione meccanica degli ultrasuoni con l'azione vasocostrittiva appunto del freddo inoltre la combinazione tra entrambe le energie fisiche ci permetterà di avere un diciamo un'intensità maggiore per quanto riguarda la potenza dell'ultrasuono senza incorrere in quello che è l'effetto termico avremo quindi un maggiore effetto vasocostrittivo sul tessuto e soprattutto un maggiore effetto biostimolante voglio ricordare inoltre che gli ultrasuoni sono tra le energie fisiche in fisioterapia che vantano il maggior numero di studi scientifici che ne valorizzano e soprattutto né a testa non efficacia l'impingimento in spalla è una di quelle condizioni patologiche davvero molto frequenti nella patologia appunto della spalla ed è una di quelle patologie che richiede molto spesso l'utilizzo e quindi l'intervento del fisioterapista possono essere affetti da questo tipo di patologia sia persone sportive che svolgono magari un'attività e un gesto magari ripetitivo ma anche persone normali che non svolgono alcun tipo di sport e che cominciano ad accusare in maniera graduale spesso questo dolore all'articolazione della spalla nell'impingimento avremo una condizione per cui l'omero tenderà a risalire un pochino e andare in conflitto con la scapola e quindi si avrà una condizione in cui ci sarà una sofferenza di quelli che sono i tendini che permettono il movimento della spalla e chiaramente un intervento dovrà essere valutato dal punto di vista del movimento sia dal punto di vista muscolare sia proprio locale per quanto riguarda l'infiammazione generata da questo attrito in questi casi il nostro intervento dovrà essere volto sia da un punto di vista di terapia manuale per cercare di lavorare con esercizi specifici per aiutare a centrare nuovamente l'omero all'interno del movimento della spalla e soprattutto andare a migliorare il movimento della scapola con appunto della terapia manuale degli esercizi specifici successivamente e quasi contemporaneamente sarà però importante andare a sfiammare quelli che sono i tessuti irritati andando quindi ad ottenere grandi risultati con l'ultrasuono il connubio tra energia fisica e terapia manuale ed esercizi sarà la vera cura per risolvere l'impingimento alla spalla io ad esempio dopo una palpazione ed eventualmente un controllo ecografico e fisioterapico per essere sicuro della zona in cui è sede la lesione cerco di capire quale struttura è stata lesionata per cercare di essere il più preciso possibile sottivido il trattamento in due fasi una prima fase prima degli esercizi sfruttando l'azione del freddo che fondamentalmente migliora la percezione del dolore e ci permette per un breve tempo di eseguire i movimenti assolutamente con meno dolore successivamente sfruttando il braccio per il trattamento automatico imposto il programma impingement e lascio regolare al software la potenza magari agendo manualmente sarebbe che ci sia bisogno di maggior potenza oppure minor freddo questo è il nostro approccio nel trattamento dell'impingement di spalla e l'ultrasuono usf1 è un valido aiuto un valido compagno nel trattamento di questo genere di patologia che ci dà sempre grandissime soddisfazioni